Il gol del serbo all'esordio ha fatto il giro del mondo, ma gli juventini si sono sincerati che tutti ne fossero a conoscenza. Pronto? Sì. Sono Alpio da Potenza. Da Potenza, pensa te. Solo per avvisare i presenti che ha segnato Vlaovic. Bene, ma perché non tu guardi la partita? Perché a Potenza ce l'hai la luce in casa? Basta, riattaccavo, se stavo un po' razzista. Però, ecco, posso dire quello che è... Ma mi sono infastidito! Posso dire che mi sono infastidito? No, non mi sono infastidito, perché se sei da Potenza stai per Ipotenza. E in che categoria gioca Ipotenza? Per favore, mago, me lo cerchi sul cellulare così lo piglio in giro un giorno, questo da Potenza, con quella voce nasale. Soffiati in naso prima di chiamare Domenia Viola e sciacquati da bocca.